I colori d'arberie è la mostra dell'artista Francesco Senise inaugurata nella Sala delle Arti del Protoconvento Francescano di Castrovillari e che resterà in visione fino al prossimo 8 dicembre. La mostra parla del territorio, parla delle nostre tradizioni, quindi parla della mia arbrecità, parla della mia calabresità. Per il ciclo dei salinari ovviamente dedicata alle miniere di Salgemma di Lungro, ciclo che è stato esposto in diverse città italiane ma anche in diverse città europee e all'estero. Vorrei provocare questa emozione nell'osservatore, sì di compassione perché comunque sono persone piegate dal peso del sale, ma dicevo anche che sono persone che si piegano ma non si spezzano. Perché sono alla continua ricerca del riscatto, della voglia di vivere, della libertà. Libertà conquistata anche se attraverso un lavoro che era quello della mia, era così duro insomma. Per l'occasione era presente l'ambasciatore della Repubblica d'Albania in Italia, Neritan Ceca. Credo che sia creato come pittore da due fattori un po' estrani da lui. Uno che viene da un paese, da Lungro, da dove viene anche un grande pittore italiano, italiano-albanese, Cabregu, poi era diventato famoso nell'America Latina e non so perché Francesco segue i suoi colori, questi forti colori, colori puri che sono veramente. Il secondo fattore che l'ha creato, secondo la mia opinione, sono le saline. Perché lui, vedendo le foto, forse avendo anche dalla sua infanzia anche immagini di questi lavoratori dell'inferno, del Salino, ha anche questa forza quasi diciamo scultoresca, perché è un pittore ma di una forza di scultore. Così nei suoi disegni, nei suoi grafiche di Salino che io apprezzo molto, chiaramente questo impado. La manifestazione è patrocinata dall'ambasciata della Repubblica di Albania in Italia e dall'amministrazione comunale del Capologo del Pollino, moderata da Ines Ferrante, presidente dell'Associazione Mistica Calabria, ha visto la presenza tra gli altri dei sindaci e degli assessori alla cultura di Firmo, Lungro, Acqua Formosa, San Basile, Frascinetto e Civita, Spezzano Albanese e naturalmente del sindaco di Castrovilla, Rimini Monopolito. Francesco è un ragazzo attento alla nostra realtà, per cui è in grado di cogliere quello che rappresenta la nostra natura, quella circostante, le nostre bellezze naturali, ma soprattutto di cogliere quello che vuol dire l'uomo all'interno di questo territorio. E l'uomo all'interno di questo territorio ce lo insegna la storia, ce lo insegna la storia passata e anche quella più decente, è fatta di contaminazione con altri popoli. Noi siamo il circontario con il maggior numero di paesi ad Bresch che si sono integrati negli anni, oramai da secoli, e che forse dovrebbero essere portati d'esempio alle nuove generazioni che vedono nell'altro, in chi non è italiano o spesso anche in chi non è di questo territorio, come un possibile avversario. Non è così, e non è così per una duplice considerazione. Innanzitutto l'uomo è uguale ovunque, non c'è distinzione sulla base della provenienza o addirittura sulla base del colore della penne. In modo particolare noi spesso andiamo all'estero, andiamo all'estero sì per vedere delle bellezze, per vedere anche quelle che sono le tradizioni, quelli che sono i modi di fare, il modo di vivere di altri popoli. Stranamente però quando questi altri popoli ce li abbiamo nel nostro territorio, li guardiamo in maniera differente. Allora se siamo intelligenti sapremo apprezzare un modo diverso di vivere dal nostro e trarre quelli che possono essere i momenti di riflessione, non copiare, perché copiare non fa mai bene, perché noi dobbiamo rispettare quelle che sono le nostre tradizioni. Ma che le nostre tradizioni vengano confrontate con quelle degli altri non può che arricchire il patrimonio culturale di questo nostro territorio e farlo sentire ancora di più come un territorio unico e non diviso dai campanieri. Al tavolo anche l'assessore alla cultura e vice sindaco di Castrovilla, Riangela Lopasso, che ha richiamato la valenza culturale della manifestazione tra tradizione al Bresce e territorio da secoli arricchito da questo inestimabile valore aggiunto. Le ha fatto eco la docente Anna Letizia Candelise, che ha curato la mostra. Un momento che ha rafforzato legami culturali ed etnici, rilanciando tutto ciò che gli uomini e le donne hanno saputo tramandare con amore e dedizione nei secoli, consapevoli del ruolo fondante, che hanno le proprie radici e la propria identità per l'integrazione e la crescita sinergica delle comunità. Io ho avuto modo di dire un'altra cosa, non solo apprezzare il valore della mostra, il valore di questo artista, peraltro noi l'anno prossimo questa mostra la renderemo itinerante in tutto il territorio del parco, ma la cosa che più ho tenuto ad evidenziare è che ho definito il parco come una grande cassaforte in cui sono custoditi tanti beni preziosi, la natura, i beni storico-culturali, anche questo luogo dove siamo è un luogo significativo, però io dovunque vado metto sempre al centro dell'attenzione questa appartenenza, questa grande capacità di integrazione di questo popolo che come veniva detto prima dalla diaspora è venuto qui da noi e si è saputo integrare in maniera incredibile, accettando e in maniera molto netta quella che era anche una impostazione di vita completamente diversa. Quindi io credo che qui nel Pollino c'è una testimonianza e c'è un'identità assolutamente evidente, la mostra lo ha messo in evidenza, peraltro c'è questo tema che riguarda i sali in arice e quindi attorno a questo il tema che ha posto il sindaco di Lungro giustamente di recuperare ad una centralità culturalmente forte la vecchia miniera della salgemma di Lungro che non può rimanere in una condizione di abbandono che invece deve poter diventare un grande sito di archeologia industriale come è avvenuto in tante altre parti del nostro paese. Quindi devo dire una mostra che ha dato anche la possibilità di mettere in evidenza tante belle cose e soprattutto questa capacità forte di questo popolo che ha saputo convivere ed integrarsi con tutto il resto della comunità calabrese.